Salve a tutti giocatori, è un video extra questo perchè sono uscite le ultime carte di Burst of Destiny che saranno introdotte in TCG, purtroppo per alcune non ci sarà l'immagine perchè non sono state per niente trapellate ma possiamo andare a leggere gli effetti e per altre comunque ci stanno le immagini andiamo a vedere i primi supporti B Trooper che praticamente sono la fusione gigantesca che richiede 4 mostri di insetto dopo che viene evocato tramite fusione immune a tutti gli effetti e le altre carte finita la fine del prossimo turno e alla fine della battle pace possiamo parchettare un mostro di insetto con 3000 o inferiore di attacco al cimitero lo specialiamo, quindi una carta abbastanza grossa letteralmente perchè è un ultra B Trooper absolute Hercules quindi roba più grossa non ci sa, carta veramente molto molto figa poi B Trooper Squad, che è questa io non riesco a leggere l'effetto quindi andiamo a leggerla da qui, dove è B Trooper Squad, eccola purtroppo vedete non c'è l'immagine tributiamo non token insetto, specialiamo un B Trooper token per ogni 1000 di attacco originale che aveva il mostro tributato quindi carta abbastanza interessante come potete vedere ho tutta una serie di siti aperti per vedere le carte quindi B Trooper Landing, ancora la andiamo a vedere B Trooper Landing, eccola qui fusiamo un mostro insetto dal Dexadec utilizzando i mostri da mano ottenendo come materiale se questa carta nel cimitero c'è tutto il turno in cui è stata mandata possiamo bandire due insetti nel cimitero per raggiungere questa carta alla mano quindi la carta fusione che ci permette di evocare i mostri fusione di archetipo poi abbiamo il B Trooper Sad Collar che mi pare l'avevamo già visto B Trooper Assault Courier Dov'è? Sì, mi pare che l'abbiamo... Ok, eccolo qui, ok, non l'avevamo già visto Allora, possiamo specialare questa carta dalla mano bandendo un mostro insetto dal cimitero possiamo specialarlo in questo modo solo una volta per turno guadagno 200 per ogni insetto e controlliamo eccetto questa carta quando viene distrutta in battaglia possiamo aggiungere un B Trooper dal Dex alla mano eccetto lui, ok carta carina, non ecco su granché e poi questa B Trooper Lite non esco a legge il nome, sarà B Trooper Lite Flapper ok va bene, leggo l'effetto direttamente da qui si è un video con pochi tagli perché se questa carta viene normalato specialata possiamo targettare due B Trooper con differenti nomi che sono banditi oppure nel cimitero e aggiungere la mano ma per il resto di questo dono non possiamo attivare gli effetti con i nomi delle carte che abbiamo aggiunto quando mostro l'avversario di gran attacco possiamo far ritornare questa carta in mano e neghiamo l'attacco ok, non mi sembrava così fortissima poi andiamo a vedere le altre carte che ci sono allora, Night Sword Serpent di cui non ho l'immagine purtroppo poi quando uscirà la andremo a vedere se questa carta viene mandata al cimitero una carta di effetto possiamo specialarla ma la bandiamo quando lascio il terreno 500 o 600, niente di che poi abbiamo DD Assault Courier che è questo qui questo sono riuscito a recuperare l'immagine non può dichiarare l'attacco a meno che non bandiamo una carta al cimitero se esattamente 3 carte sono bandite possiamo specialarlo quindi ok carta che fa occhiolino è DD quindi molto carina come carta poi Abyss Keeper che è un mostro un mostro link con 1500 di attacco che richiede due mostri acqua non può essere utilizzato come materiale link nel turno in cui viene evocato se viene evocato link possiamo specialare un mostro pesce dalla mano in una zona puntata da questa carta possiamo targettare un altro mostro pesce che controlliamo una carta dall'avversario e le bandiamo quindi dai il secondo effetto è carino poi Apex Predation questa è una carta molto molto forte è veramente molto molto buona carta trappola normale se controlliamo un mostro evocato tramite normale o posizionato distruggiamo tutti i mostri specialati sul terreno fino alla fine del prossimo turno possiamo soltanto non possiamo normalare o settare però è una carta veramente forte che è un po' tipo luce nera soltanto che è molto più è più è più è più generica insomma quindi andiamo a vedere le altre carte i bitrooper li abbiamo visti e queste possiamo avere l'immagine quindi abbiamo flip frozen se questa carta è mandata al cimitero possiamo cambiare tutti i mostri in posizione di attacco in difesa ok è praticamente fuffa dry brave lo vediamo una volta per turno quando un cybers che controlliamo dichiaro di attacco possiamo scartare una carta il mostro attaccante vado a 1600 altra fuffa rebuilder quando questa carta distrugge il mostro in battaglia possiamo targettare un mostro cybers con 1.5 di attacco inferiore lo specialiamo dal cimitero ok tra il short borg se non controlliamo i mostri possiamo specialare questa carta dalla mano scartando un cybers il mostro è l'avversario che controlla perdono 500 ok questa è carina però questa magari ti permette di scartare roba che si triggera dal cimitero e poi te lo speciali tranquillamente non è male come cartina senate cross wipe tributiamo un cybers per targettare una carta sul terreno e spaccarla anche questa carta rapida non mi dispiace carta veramente interessante carta veramente interessante poi abbiamo il danger la bayonet punisher e la cyanet cascade e così completiamo tutto il set mi dispiace per le carte di cui non avevamo la foto ma non le ho trovate da nessuna parte quindi quando un danger è distrutto in battaglia con un mostro e l'avversario possiamo spaccare quel mostro possiamo bandire tre carte danger magia e trappola con nomi differenti al cimitero per distruggere tutte le altre carte sul terreno e in più non possiamo specialare mostri per il resto del turno eccetto mostri danger possiamo utilizzare questo effetto una volta per turno carta veramente interessante va bene che il mazzo danger puro non lo utilizza nessuno che ormai è praticamente soltanto un engine però sarebbe carino vedere un deck del danger perché gli archetipi cioè le carte illustrate sono veramente fighe poi bionet punisher applichiamo gli effetti in sequenza in base al tipo di borer che controlliamo nel cimitero se controlliamo un mostro 3.000 di attacco l'avversario non può attivare carte 3.000 o più carte in risposta all'attivazione se abbiamo un mostro fusione bandiamo un mostro dell'avversario senza targettare sincro bandiamo 3 carte coperte dell'avversario dall'extra deck xyz bandiamo una trappola spell trap che l'oppo controlla link bandiamo 3 carte dal cimitero dell'avversario carta interessantissima carta interessantissima perché già se ti fai il borelode fusione comunque bandi un mostro a caso dell'oppo carta veramente interessante non male non male concludiamo con cyanide cascades evochiamo un link possiamo targettare un mostro nel cimitero utilizzato come materiale e lo specialiamo ragazzi questo era tutto il set tutto il set di burst of destiny con le carte mancanti le 20 carte mancanti da noi ci sono un po' di reprint fuffa buoni supporti bitrooper e qualche carta carina che ci speciala detto questo il video credo lo farò uscire al 9 detto questo noi come sempre ci vediamo in un prossimo video se volete iscrivetevi sono sempre qui come una faena nel cercare di portare tutti i video e detto questo noi come sempre ci vediamo in un prossimo video